Scrivere è un pezzo comico, soprattutto quando lavori in un contesto aziendale, a volte è un po' come cercare di tenere un canguro imbizzarrito in un tinello senza far danni. La comicità spesso è irriverente, trasgressiva, viaggia per paradossi. Si tratta di tenere equilibri precari tra il far ridere e non dare informazioni sbagliate. Quando abbiamo registrato Sorridi con Thea, ad esempio, c'era una battuta che mi faceva molto ridere. Dottore ma dopo l'operazione alla catarata di che cosa avrei bisogno per poter guidare senza lenti? Il dottore di un parabrezza graduato parasole. La battuta mi divertiva molto ma il professor Nucci ha fatto notare che essendo lo sketch rivolto ad un gruppo di oculisti qualcuno avrebbe potuto pensare a un giudizio mascherato sul cristallino multifocale che invece permetterebbe davvero al paziente di guidare senza occhiali dopo l'operazione. Il rischio era di dire nel sottotesto che il cristallino multifocale non funziona a dovere, cosa ovviamente non vera. Ed è per questo che abbiamo escluso la battuta dalla registrazione. Insomma, in questi brevi incontri abbiamo cercato di farvi sorridere ma trovando i giusti equilibri. Fateci sapere se ci siamo riusciti. Come? Beh, se siete oculisti potete farlo partecipando il 19 febbraio alle 19 a Sorridi Contea gli insoliti pazienti. Tutte le indicazioni per iscrivervi le trovate qui nel post. Vi aspetto. Giova fortemente alla salute anche quella degli oculisti ed è priva di ogni effetto collaterale.